Riusciamo finalmente da questa notte e anche con il giornale di oggi a far abbassare il livello dei canali, adesso si è abbassato complessivamente di una trentina di centimetri. In questo momento tutto il sistema di pompaggio che abbiamo messo anche in via straordinaria sta buttando al mare circa 6 mila litri al secondo, non al minuto. Ogni secondo sono 6 mila litri che riusciamo a sversare o in Darsena a Fiumicino e quindi immediatamente al mare oppure dentro Fiumara Grande cioè al Tevere e quindi nonostante quello è ancora lento il deflusso però è continuo. Io spero che non piova questa notte o perlomeno non piova molto perché se no è chiaro che diventa più complicato.